Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere l'outfit di oggi che è lunedì devo continuare con il mio video haul, però oggi purtroppo non riesco anche perché sto finendo di caricare gli altri, quindi non ho grosso spazio sul cellulare quindi sto aspettando di caricare le prime parti e poi già, secondo me, martedì, mercoledì domani dopo domani dovrei riuscire a caricarvi anche il resto, così riesco anche un po' a sistemare tutto però volevo farvi vedere comunque l'outfit di oggi perché indosso un vestito del banchetto di 4 euro che ho voluto, insomma, abbinare e quindi volevo farvi vedere com'era uscito il tutto oggi ho un outfit un pochino di impronta 80, anni 80, con tanto giallo, tanta luminosità e anche un pizzico di rock, secondo me, spero che vi piaccia, un po' particolare allora, il trucco sui toni del giallo e il rossetto di... di Kiko, sì, capello liscio ancora dall'ultimo lavaggio con tinta e ho messo sempre il choker che avevo anche ieri e gli orecchini, stessa tipologia di gioielli allora, l'abito è questo, abbastanza impegnativo come abito, adesso ve lo faccio vedere sopra ho voluto mettere il giacchino questo che avevo preso al mercatino perché oggi è una bellissima giornata, quindi ho detto, oggi dai, metto su questa giacchina che, insomma, almeno la posso utilizzare, visto che fa abbastanza caldo questo vestito, l'unico suo difetto, un difetto che ha, diciamo, questo vestito è che camminando si arrampica, quindi praticamente ve lo ritrovate a minigonna in teoria, dovrebbe stare più giù, però a forza di camminare sale è un abitino di questo giallo ciliglia, con la particolarità di avere tutte le maniche così a... insomma, non so come dire le maniche fatte in questo modo, diciamo, tutte... non so come si dice vabbè, comunque tutte così... sfarzose e poi è intrecciato, è fatto così con l'intreccio e ha la sua cinturina che ho legato a lato, a modi a cappatoio un abitino molto aderente, secondo me, però, molto carino più da sera che da giorno, però... io ho voluto... oggi mi sentivo molto rock e quindi ho deciso di metterlo di giorno, anche perché la sera, vi ripeto, sono col pijama non lo pensavo così succinto, però è succinto, ma secondo me non esageratamente... cioè, non esageratamente non troppissimo, ma borsettina di Michael Kors, questa qui nera e oro l'outfit è un po' tamarro e per finire, scarpe queste qui che avevo preso dai cinesi, che mi piacciono veramente tantissimo non le avevo mai utilizzate, sono nere con tutte queste catenine dorate mi piaceva nell'insieme, non so è un outfit, tipo, che se fosse un abito super firmato fatto un pochino, magari anche meglio, ma non è che sia fatto male potrebbe essere un outfit da Fashion Week, secondo me tipo da... per vedere una stirata versione... vedete l'insieme così versione super 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 low cost spero che comunque il video vi sia piaciuto l'outfit vi è sembrato carino insomma, vi abbia dato qualche idea se avete qualche abito di questo colore, dubito, nel vostro armadio se non ce l'avete che lo trovate coi saldi e volete avere un'ispirazione insomma, abbinatelo a degli accessori dorati e tanta simpatia e buon umore sottomesso questa lupettina di Stefanel nera, perché ovviamente se no l'abito era esageratamente scollato spero che vi sia piaciuto ragazze tornerò prestissimo, cerco di caricarvi i video così riesco a farvi il video outfit e scusate il video haul delle cose di sabato perché ne ho ancora parecchie da farvi vedere e non vedo l'ora di finirlo per poi avere tutte le vostre opinioni vi saluto e ci vediamo nel prossimo video buona inizio settimana a tutte ciao!